Sì, sempre settembre 2024, questo è un bel momento ragazzi, voglio farvi vedere una cosa. Mi trovo a Dovolandia, guardate un po'. Uno, due, tre, quattro e cinque. Nove, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici. Sì, li ho visti da lontano ragazzi, chiamati anche le lanterne dei boschi. Tredici, quattordici. Questi purtroppo sono già un po' muffiti. Quattro e quindici, ma qui ce ne sono ancora in uscita ragazzi. Guardate un po'. Sedici. E diciassette. Sette. Ragazzi, ho Volandia. Fantastico, si continua.